Dai! Oh mio dio! Epico! Ok, sto facendo qualcosa di letteralmente figo Ok! Oh mio dio, ho fatto la provata! Oh mio dio, ho fatto la provata! No! È morto! È morto il mio compagno! No! Sì! Sì! Oh mio dio! No! No! Porco! 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 Bene! Sì! Ce l'ho fatta! Old chart! Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No! Buongiorno gente bentornati nel canale Guadagnigi! Siamo in un nuovo video! Ci troviamo nel server dei Mineplex! Nei Mineplex! E sono venuti in questo server senza la minima idea sul cosa registrare! Dunque GG a me! Allora, adesso vediamo un po' come sono cambiate le cose qua nei Mineplex! Apriamo la bussola dei minigiochi e troviamo... Boh... Boh... Eh? Vabbè, un gioco con le uova credo! Speed Builder, Dragon Escape, Wizard, 2HC, Skyward, Survival Games, The Be... Bridge... Captured Flag, Dominate, Team Deathmatch, Castle Siege, Block Hunt, Draw My Fig, Master Builder, Arcade, Super Smash Mobs, Mine Strike! Allora, facciamo così! Proviamo il gioco delle uova! Non c'è nessuno! No! Ah, il gioco dove devi cucinare... Vabbè, signore, facciamo così! Giochiamoci una bellissima arcade! Una bellissima sezione di arcade! E tanto poi comunque ci sono diversi minigiochi, come tutti sapete, sta laggando un pochettino, ma è perché è la lobby che così dunque non è un problema! Oh mio Dio, 20 pps, che schifo! Allora, signori, siamo nel minigioco Escape Dragon, non mi ricordo, probabile, non ne ho idea, però so solo che io su questo minigioco facevo schifo e faccio ancora schifo! Allora, a parte il fatto che sto laggando come... Sto riuscendo anche a fa... Epico! Epico! Sono ancora vivo! Non ci credo! Non ci credo, attenzione! Attenzione, cose epiche stanno accadendo, non sono mai andato così tanto avanti su questo giochino stupido! Ok, credo di avere il drago dietro il kill, però non voglio girarmi! No, 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 no! Perfetto, ottimo lavoro, non c'è capito nulla! Oh, però se pot... cioè, come potete vedere, sono arrivato terzo! Cazzurino! Comunque, prendo un paio di secondi per ringraziarvi vivamente del supporto che mi avete lasciato sotto il video di MCSG, perché nonostante io sia stato assente per tre settimane, ho comunque ricevuto un supporto... Sì, buono, ci poteva stare come primo video dopo tre settimane, Dunque, vi ringrazio veramente a tutti, uno per uno, e ora giochiamo al gioco dei maiali... Cos'è questa cosa qui? Devo uccidere i maiali? Non ne ho idea... Cos'è? No, no, non devo cadere, credo... No! No! Basta! Dunque, altro minigame... Ok... Già che c'è la lava sotto non mi piace per niente, io suppongo... No, no, questo no, questo minigame no, vi prego... Io lo odio... Ok, un lato positivo è il fatto che posso saltare almeno... Solo che non ho idea cosa succede se vado a premere il tasto destro con l'accetta in mano... Ok, oh mio Dio ho fatto la provata, oh mio Dio ho fatto la provata... Ora però stavo facendo la stronzola... Oh mio Dio ragazzi... Sì, oh mio Dio cosa ho combinato... Non si riesce a capire un ca... Che me ne frega... Gesù ebbe fame... Vai, 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 vai... Peccato che... Siamo a caso G! Sì! Oh, sono io questo! G! Grandissimo! Gigi! Allora, a quanto posso... Oh mio Dio, già che ci sono le bombe in via... Ho fatto la stronzata, vero? Credo di sì! Non ne ho idea... Ah, che figo! Bisogna spav... Ma che bello! Sì, il problema... Quello che non ho capito bene io... È cosa ci fanno certi gialli da noi e perché ci sono anche dagli altri... Allora, è fighissimo perché tutti quanti si lanciano le TNT ed è una cosa molto bella... Meno quando ti esplodono le cose in faccia... No! È morto! È morto il mio compagno! No! Sì! Sì! No! No! Oh, stasera vengo a dormire in casa tua, eh? Oddio, che cosa troppo bella! Ci sono tutti i cosi, i pupazzi di neve in giro, ma... Get to the safe pad! Oddio! Ma stai scherzando? Ok, ora sì che ragioniamo... Siamo ancora nei minigame del pupazzo super figo... E non ho capito un attimino una cosa... Io posso saltare a quanto pare? Sì, posso saltare... Dunque, devo andare per qui... E ce l'ho fatta! Oh mio Dio... No! No! Porco! 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 Allora, sto usando l'F5 per provare ad andare meglio per una visuale più ampia... Anche se... Gesù Santissimo di quel benedetto... Buonasera! È un attimino complicato... Muoviti! No! 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 Da come ricordo Devo riuscire a uccidere questi qui Per provare devolver mi Ma quanto pare non mi lascia Bene si ce l'ho fatta Old charge cosa vuol dire Cosa vuol dire No Vai vai bella Sì devo far così Carica no Bastardo Oh bello ora si che si ragiona Vai uccidiamolo Vai spara Guarda come fa fuoco Sì 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 Dai che palle Tutti contro ce li ho Dai qui che si stanno già pestando di loro Vai vai che ho pochi cuori Vai che ho pochi cuori Vai che ho pochi cuori Spara fuoco Spara Prendi la pugni Oddio che volo che ho fatto Oh madonna No Non ci credo Oh ma neanche un colpo Gli ho tirato Sì Ma dai ma sei serio Madonna io ti prendo a pugni Ti prendo a pugni Ti prendo Dai che è morto Dai che è morto Oh mio dio Bon quanto togli No un pollo no Il pollo no Dai vediamo di uccidere il creeper Vediamo di uccidere Sì 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 No 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 Sei una Stepperoncino Sì vai Evolviamoci dai Oh no Ma veramente Vai scappa su Scappa su scappa su Vai bravo Mamma mia La situazione sta iniziando ad essere un attimino critica Non siamo rimasti in tantissimi eh Però la cosa diventa molto molto più difficile E vabbè ma abbiamo sti draghi qui che continuano ad arrivare da noi Dai Skydreamer possiamo farcela Basta Come dice Tizio20 dobbiamo credere nel cuore delle carte Basta che non arrivi da sotto sti draghi Altrimenti porca Minchia stavo morendo malissimo Siamo rimasti in quattro non ci credo No Skydreamer no Ok ancora vivo dai Possiamo farcela amico Possiamo farcela No Sì 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 Sono riuscito a sopravvivere Madonna Oh mio dio La cosa inizia a diventare molto più difficile Perché là c'è un pollo No 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 Sì sì Sono vivo sono vivo sono vivo sono vivo Sono vivo Siamo in due Manchiamo in due Siamo sì sì Non ci credo vinto Dunque signori Vediamo alla conclusione di questo video Invito a mettere un bel pollice su Se il video è stato di vostro gradimento Vi invito a lasciare un commento Se volete condividete Anzi condividete Mi fareste un gran bel favore A meno condividete questo video con i vostri amici Così che loro possono Anche loro possono conoscere il mio canale E magari possiamo crescere un po' di più Tutti quanti assieme Dunque niente Iscrivetevi anche al canale E ci vediamo in un prossimo video Da Dane è tutto Bella Ciao 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 Ciao